Del disco di Mina con Ivano Fossati ne parlerò più con calma dopo averlo ascoltato. Oggi, in realtà stasera al Conservatorio Milano, abbiamo ascoltato tutte le canzoni, però insomma la prima volta così. Il disco mi piace molto. Ho l'impressione di un disco di Fossati nel quale Mina si è calata come se fosse la sorella di Fossati. Quindi, molto interessante la conferenza, è sempre un grande privilegio poterla condividere con voi. Sapete che io faccio questa battaglia per darvi le conferenze così come sono. Intanto ascoltate Ivano Fossati perché è numero uno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, tutto sommato, l'allargherei anche all'altro computacolista. Magari fino a Lugano arriva. Allora, sono otto anni di lavoro che io definirei in ordine spazio, mettiamola così, nel senso di, voglio dire, scritto diversi pezzi per altri. Quindi, e altre esperienze varie, arrivano questi undici, undici, faccio notare, undici pezzi nuovi, tutti insieme. Come dire, sono passati otto anni, ci hai detto che avevi chiuso coi dischi, ci hai detto che avevi chiuso coi concerti, e ora, undici pezzi nuovi, undici pezzi nuovi cantati in gran parte anche da te. Così, senza, senza dire altre, cosa vuol dire? Non è che vuol dire che, cosa vuol dire? Ma, allora, innanzitutto, in quegli otto anni c'era una sola volontà principale, che era quella dell'ozio. Cioè, sono stati otto anni bellissimi, dai quali sono staccato dal mio mestiere, soltanto sporadicamente. L'idea era veramente quella di rimanere in ozio, di godermi certe cose, come la mia famiglia, eccetera. E credo che davvero, senza nessuna esagerazione, l'unica persona che poteva riportarmi in uno studio di registrazione era la mia. Però l'intenzione è sempre quella, insomma, io non... sono uscito da quella... Non hai cambiato idea? No, sono uscito da quella che per me era una routine che era diventata pesante, la... sapete, disco, tournée, disco, tournée, disco, intervista, tournée, intervista, disco, tournée, eccetera. L'ho fatto per 42 anni, 42 anni potete immaginare quanto sono lunghi. Quindi, quando mi sono staccato, ho capito che era davvero la decisione giusta per me. E per tutti questi otto anni, non sapevo come sono ancora adesso. Quindi questa per me è un'eccezione ed è un... io l'ho definita una gioia. Una gioia che non mi sarei mai legato, quella di lavorare insieme a me. Allora, il po' che l'ha descritto, che l'ha descritto prima Massimiliano con questi pezzi che arrivavano in maniera... anche imprevista, ingrappato, imprevista in questa loro mole per arrivare a questo... Era partito diversamente il progetto, mi sembra. Era partito... Spiegaci come è data. Allora, a un certo punto abbiamo scoperto che c'è un antefatto, insomma, devo raccontarvi brevissimamente in tre parole un antefatto. Questo disco insieme, Mina e io, lo dovevamo fare molti anni fa, addirittura nel 1997. Ci eravamo accordati per farlo e stavamo per farlo. Poi qualcosa... nell'ambito delle case discografiche non ha l'opera rispetto. E io ho scoperto, due anni fa, che lei ancora ha pensato a questa idea, a questo progetto e a questa idea di fare un discorso. Io non immaginavo nemmeno che solo ricordarsi. Io e lei ci conosciamo da tanti anni, ci siamo visti e sentiti molte volte, non ci siamo frequentati realmente, però c'è una grandissima stima. Quando ho avuto questa notizia ci ho pensato un attimo e vi confesso che mi ha spiazzato un po' proprio per questa mia decisione di stare lontano dalle registrazioni, lontano dalle scene, eccetera. Sono stato attitudinato per un momento, per un brevissimo momento, poi sono tornato a casa e ho raccontato la cosa a mia moglie. Ho detto, sai, Mina pensa ancora di fare questa cosa? Io sono veramente combattuto in dubbio. Lei mi ha guardato negli occhi senza parlare e mi ha detto, se dici di no, a Mina, chiedo di porti. Senti, un'ultima cosa, poi apro la possibilità ai colleghi di farti domande, un'ultima cosa, però velati un po' com'è cantare in dubbio, perché alla fine abbiamo sentito il catalogo pazzesco di questo tipo, lei da sola, tu da sola, voi in coppia, voi a fare le doppie voci, voi a giocare in coda ai pezzi, a fare delle piccole voci nascoste. Spiegaci. Guarda, lavorare con lei, allora, bisogna avere forse una diversa idea di quello che è questa grandissima artista. Cioè, noi tutti abbiamo, dentro di noi, dedicato l'idea che sia una grandissima cantante. Quando pensiamo a lei, pensiamo a questo fatto. La verità è che lavorare con lei è lavorare con una grande musicista. Mina non è soltanto una grande cantante. Dietro ad ogni parola, dietro ad ogni parola che canta, c'è sempre il pensiero. Stavo dicendo oggi ai miei amici che tutte le interpretazioni di questo disco, le 11 interpretazioni sue, meriterebbero veramente una lezione magistralis, per essere spiegate punto per punto. Perché lei fa cose senza darlo a vedere, che sono di una raffinatezza incredibile, ma non sono pensate, non sono progettate. Mina non progetta. Semplicemente pensa. No? Cioè, dietro ad ogni parola, ad ogni nota, ad ogni emissione vocale, tutto quello che avete sentito e che sentirete, c'è sempre il pensiero. Quindi, è lo stesso atteggiamento che hanno, per esempio, i grandi jazzisti. Quando tu ascolti una solo di John Coltrane, sai che lui sta pensando nel quel momento. Non sta soltanto suonando, sta giussando. È il suo pensiero che si fa suono. Ecco, vi assicuro che nel caso di Mina è esattamente la stessa cosa. Io lo so dove vuoi arrivare giù. Hai cantato il Pagliaro? Lo so dove vuoi arrivare. Non è vero che l'ha cantato meravigliosamente, Ivano Contoro. La vostra è scattata, non è scattata. Io so dove vuole arrivare questa serpia delle nuove. Vole arrivare a farmi dire che quando hai per contrattare una cantante con quella non tecnica, perché non si tratta di... La tecnica è incredibile, la tecnica è mia, ma non è famosa. È espressività. Quando hai per contrattare lei, ovviamente fai un po' meglio. Io ho fatto delle tracce, a volte ho cantato delle tracce, eccetera. La sua voce non c'era ancora. Dopodiché è arrivata la sua voce, oppure abbiamo fatto questo, ma è arrivata la sua voce, e la mia, appena noi a scontare, no, io questa la devo cantare. Assolutamente. Cioè, quindi si creava una specie di, non un piccolo, ma un miglioranza, da parte mia, non da parte sua. Da parte sua, anzi, una volta c'è stato un episodio, sulla terza traccia, quella che si intitola l'Arno, di una cosa, e Basiliana Pani aveva preparato questo andamento, questo, a quest'allenby bellissimo, che io non mi aspettavo, che era veramente un modo di vedere la canzone geniale. Da pari che, io ero a Genova in quei giorni, e Nina mi chiama e mi dice, Cioè, ho provato su quella base, ho provato ad appoggiare un'anzuccia. Però la ricanto, andava. Prova a sentirla, l'ho fatto per prova. E mi manda a quella che avete sentito. E lui ha ricannato, dicendo, se la vuoi ricantare, devi passare sul mio canale. Alla fine si è convinta. Non scusa, ma si è convinta. L'abbiamo lasciato via. E' così lavorare con lei. Allora, io non devo assolutamente svelare niente di Mina. Se non che, questo si può dire, a parte tutte le meraviglie sull'enorme potenziale artistico, che comunque sappiamo che nessuno deve spiegare, è una persona adorabile. E questo lo posso dire. A meno che... A più... A meno che sia... A meno che sia una persona che sia un po' più difficile. A meno che sia un po' più difficile. Credo che sia più troppo a disposizione. Ecco... Vi chiedo di essere molto anglosassoni, vi imploro. Minimimile. quello che mi colpisce è che tutto quello che la vita elimina è il fatto che lei non sente il sacro fuoco dell'arte cioè tutto scorre con grande seguità pulisce e mi domando se questo sia vero perché c'è molta leggenda ma guarda no, secondo me invece c'è una profondità è quello che ho stato dicendo poco fa il pensiero a cui ho potuto stare vicino in questi quasi due anni capire che dietro a ogni cosa che fa a ogni cosa che decide e a ogni cosa che canta ovviamente c'è sempre un pensiero che si può definire che dobbiamo definire netto per si è detto Mina è sempre intanto nelle sue nelle cose che ti propone è spiazzante sempre no, tu credi che sia vicino al tempo c'è un chilometro più avanti o un chilometro più di lato fra noi due c'è un rapporto di completa fiducia ed è questo su questo si basa il lavoro che avete studiato completa fiducia lei si fida molto di me io mi fido molto di lei non certo della sua capacità quello sarebbe un paradosso è evidente mi fido delle sue scelte che a volte ripeto sono spiazzante ma è diventata una specie di barzelletta fra noi due io le dico sempre tu hai ragione otto volte su dieci e lei ovviamente minimizza no è difficile se vuoi fare un complimento a Mina è molto difficile perché minimizza quindi io mi fido di lei in questo senso e per rispondere in maniera definitiva la domanda a tua Mario no io invece credo che ci sia molto molto pensiero dietro a tutto quello che fa il resto è trattenersi il resto è non mostrare il resto è non fare cadere dall'alto ma le sue decisioni la sua arte mai la parte però bisogna starle vicino anche anche il momento Ivano Renato Tortarolo come tutti i clenobesi sono molto diffidente non mi ferma le prime impressioni questo è un disco di Ivano Fossati che torna dopo anni a raccontare il mondo com'è come se ne avessi avuto fretta urgenza infatti ha detto l'odio Bertardini nessuno scrive testi così ti chiedo con tutto rispetto per Mina non è che tu hai preso la palla al balzo per tornare a cantare finalmente quello che tu volevi dire e noi volevamo ascoltare risposta risposta secca no non ti credo no ti giuro la verità vera è quello che ho detto prima io non pensavo mai di rientrare in uno studio di situazione e quindi non senza questo invito suo dopodiché quando ho cominciato a scrivere le canzoni per noi per noi ho sentito fluire le idee le idee che mi sembrava di avere un po' di meno sono rifluite ed è vero che ci sono canzoni scritte più per lei alcune più per me e poi le abbiamo incrociate poi io sono entrato nelle sue lei è entrata nelle mie questo è verissimo però io non avrei mai scritto 11 canzoni senza lei accanto e quando dico accanto dico a ragion veduta perché ti ti guida io ho detto ho scritto che questo è un disco sul presente se deve avere se ha un un significato una linea è quella di parlare del presente questo presente viene questa idea del presente viene da qualcosa nella quale io credo cioè il presente è la cosa di prezioso che abbiamo nelle mani ma anche dal fatto di essere stato due anni accanto a lei a lavorare perché come sappiamo come Massimiliano Vanni sa molto meglio di me lei non ama il passato non è difficilissimo farla parlare del passato non ne parla mai si rischia che lei non parli di questa cosa mentre se si comincia a parlare di un progetto qualcosa che si farà domani si trasforma in una valanga di idee improvvisamente allora questo mi ha fatto riflettere siccome abbiamo forse abbiamo la stessa idea abbiamo la stessa idea ci piace vivere questi presenti mi piace essere qui con voi adesso e mi piacerà domani essere da una valga ma non sono incline come lei non è incline a parlare e a pensare dal passato allora ecco perché mi ha aiutato ed ecco perché ho risposto a Renata Portarolo no non sono canzoni che io ho scritto per me utilizzando sono canzoni che in qualche modo lei mi ha anche aiutato a scrivere ecco che sono qua sono Paolo Giordano due domande e una di seguito all'altra una una per favore è una regola una impariamo questa regola una domanda allora una domanda ne togli una collega quindi una una domanda disindue semplicemente la spiegazione del testo sulla guerra fredda cioè il testo guerra fredda dici la guerra fredda ormai fuori moda e vorrei capire perché non ho capito benissimo diciamo lo scorre dei vers e lo scorre delle parole una sola domanda allora il senso di quella canzone è come dire lo scoprire lentamente che si passa da una situazione privata una storia d'amore privata ha un pensiero più ampio più alto a un certo punto e questo pensiero più alto è parlare del perdono si può parlare del perdono fra due persone che si amano che si sono amate ma è molto più importante se qualche parola qualche verso qualche parola ci fa pensare che quelle due persone stanno anche considerando il perdono in un senso più ampio no non è solo non è solo la guerra fredda che è finita e si sono raffreddati certamente i rapporti tra i noi protagonisti ma c'è qualcosa di più e io spero che nella canzone bassi questa idea che loro in qualche modo cioè loro o in realtà siamo noi i due i due interpreti stiamo parlando di un perdono più alto all'inizio quando la canzone inizia è privata poi lentamente il tema si sposta buonasera sono Fiamma Sanò e messaggero io proprio una domanda sull'amore perché alla fine in questo volume c'è tanto presente c'è l'amore privato l'amore universale ma che differenza c'è tra l'amore del poeta e quello dell'uomo quello raccontato in canzoni in contrapunti e delicatezze è quello dell'uomo fossati che è stato tante volte chiamato in causa sull'amore nel mondo reale artiste reali per esempio due casi di una carica recente mi riferisco io sono stato chiamato in causa molte volte questo tema come se fossi uno che ci capisce qualcosa è una cosa che mi persegno perché come se io fossi un esperto la verità è che per scrivere delle canzoni da moglie canzoni da moglie si può dire perché non è spregiativa è un modo è un modo di comunicare è un modo di scrivere si può scrivere non capendoci niente io mica vedete se ti dico io adesso ne passo l'anno e non ci ho capito niente non lo so non lo so ma so solo una cosa me l'ho sempre detta che riesco a scrivere certe cose perché durante nella mia vita ho sempre ascoltato le donne allora scambio ascolto dobbiamo sempre ascoltarli sul secco questa è la differenza no? la differenza è tra fingere di ascoltare e ascoltare sul secco allora quando tante volte i vostri colleghi mi chiedono ma ma tu ti cari spesso in qualche modo anche nei modi femminili nell'universo femminile non è vero io non ci partisco niente lo dico per la terza volta però però ho parlato tanto e ancora più importante ho ascoltato tanto ascoltato tanto ma non soltanto dalle persone con cui avevo dei rapporti sentimentali si aveva in chiaro da tutti anche dagli amici finché io sono felice di parlare con le donne anche quando sono le amiche di mia mamma le sto a sentire e l'ho sempre fatto lo facevo da ragazza e lo facciamo da adesso ecco mi le adoro ciao Massimo e sono gentile questa domanda poteva essere girata un po' anche a Massimiliano perché volevo capire sulla gestione della gestazione delle canzoni tu hai detto che ne hai fatte 11 in circa due anni di cammino allora su una persona così esigente così sedentiva come Nina viene a pensare che non sono state tutte buona la prima cioè quindi volevo capire quanta elaborazione quanto hai buttato via quanto hai intervenuto sulla musica mi trovo che sui testi visto che è vero che canta bene qualsiasi cosa però deve stare molto addosso quindi quel vestito quella stoffa di cui parlava Massimiliano voglio capire quanta ne è rimasta da parte quanta ne è buttata via non ci dirai se poi le utilizzerai di nuovo insomma è difficile pensare che siano 11 calciatori anche nelle squadre calcio dalla panchina se ne alzano tre almeno grazie grazie a te ne abbiamo buttato ne abbiamo messo da parte una perché era a giudizio mio e suo aveva un sapore troppo dolciastro era una musica un po' così la definivamo tutte e due dolciastro e l'abbiamo lasciata da parte per quello perché non ci convinceva fino in fondo tutto il resto allora tutto il resto è vero dice bene mina non canta qualsiasi cosa tu la proponga è vero e quando ascolta le cose lo dicevamo proprio oggi prima di io non ho mai visto nessuno ascoltare le registrazioni così diventa uno scanner io non ho mai visto una persona che non ascolta la musica la scannerizza quindi ascolta da tutti i particolari e la cosa che mi piaceva sorprendere era che io mentre ascoltavamo le cose fatte prendevano punti non sapete le cose da modificare se uno dice ma questa cosa si può fare meglio questa cosa invece è molto bello da teniamo e quindi potete immaginare quanto non sia risposta a cantare qualsiasi cosa e quanto succeda che ti dica ma questo pensiero no per questa cosa succederà almeno non è successo tirato però magari questa cosa preferirei non dirlo oppure preferirei dirla in un altro modo ecco questo questo sì perché appunto è attentissima e presente ecco nessuno pensi all'artista chiuso nel suo aeremo che scende e si concede per venire a cantare una canzone poi sparisce una nuova volta Mina è molto presente in questo c'è proprio ed è concreta perché ha detto cose ha provato idee ha discorso quindi no c'è molto c'è molto però di canzone ne abbiamo lasciate da torezza non solo eccoci sono Guia Succini ho una dronda minuscola vorrei solo sapere sono qua non direi scusa tutto a destra tutto a destra ecco vogliamo dire vorrei solo sapere se la carrettera di Tex-Mex è la stessa che non sono una signora potrebbe sì potrebbe io come dire ho il rezzo legittimo di pensare che sia un'altra cioè a me nella carriera in Grecia non è detto che devi passare sempre sulla stessa strada ma d'altro canto insomma questa canzone questa canzone sogno io me la immaginavo in un posto come il New Mexico un posto del centro e mi immaginavo questa pista polverosa eccetera e quindi ho detto sì va bene è una parola che ho già usato l'ho già usata ma accidenti era il 1980 che fa tanta l'ho già usata l'ho già usata che fa tanta l'ho già usata passo passo, momento per momento che doveva cantare lei. Però questa domanda che mi fai apre una piccola cosa interessante che vorrei dire il più brevemente possibile, cioè che se c'è stato un qualche cosa di difficile nella scrittura di queste canzoni, alla quale non ero abituato, ovviamente la piccola storia delle canzoni sono per me, è stato proprio di lavorare sulle parti sue, sulle parti mie, in maniera differente. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che la mia voce, la mia vocalità, sopporta e ha bisogno ad esempio di note brevi e di sillabe, di molte più sillabe. La vocalità di mina ha bisogno, in molti momenti, di note più lunghe e di vocali e di meno vocali. Cioè, e allora la divinità qual'era? La divinità era dire gli stessi concetti con meno parole, che non è facile. È molto più semplice quando puoi caricare di parole, no? Perché dici un concetto quasi come se lo scrivessi in una lettera. Lo puoi fare. Quando invece hai bisogno di allargare la notazione, e questo con mina va fatto, perché la sua voce deve decollare, questi sono dei momenti che deve assolutamente decollare. Ecco, questo è stato ogni tanto una piccola difficoltà contro la quale mi sono battuto. c'era un piccolo frammento di luna diamante che aveva più sillabe di com'è e mina mi disse ma, sì, certo, mi piace moltissimo, ma a quel punto non potrebbe avere meno parole. Ed era un punto focale per me della canzone, era un punto importante. E io, poi lei ha un modo di dirti le cose, che è in questo, in sostanza. Potresti, magari, scriverlo con delle note più lunghe, con delle forme, ma non ti preoccupare, se non vuoi, io la canto così. E' una cosa che ti inchiota il mondo, cioè, è una delle più caratteristiche in tanti al mondo. Ecco, è una gentilezza. In questo modo, dicendomi lei, così, queste parole, io sono rimasto calzato, due notti. Finché non sono riuscito a mettere a posto quel passaggio, dicendo con meno parole, meno sillabe, come anche con no, per lui è della stessa, identica cosa. Ecco, cosa succede a scrivere per nuove persone. Ciao, Ivana. Luca Dandoni da Stanta, ciao. Volevo velocemente capire come mai c'è questa farfalle, farfalle nel finale di Tex-Mex, che quando ci ha arrivato il singolo si capiva poco, poi ora chiaramente l'abbiamo capito. e poi, se questi due anni che sono passato... No! Ah, basta così. Io devo fare il centro, però. Io credo che... Allora, la presenza di farfalle sul video di Tex-Mex è stata un'idea molto carina di balletti che ha costruito quel video. a un certo punto, a un certo punto, il tempo, no? Allora, voi sapete, o sapete, no, che sia i fisici quantistici che gli astrofisici fanno di tutto per convincerci, ormai da anni, che il tempo praticamente non esiste. E quelli due di Comprendonio, come me, non capiscono, no? Noi non ce la facciamo a capire questo concetto. Allora, mi piaceva l'idea che nelle finali di Tex-Mex, se il tempo non esistesse, no? Lui aspetta nel deserto del Nuovo Messico, ma in realtà aspetta anche nelle pianure sabbiose di un pianeta lontano, perché il tempo non ha significato. E questa cosa mi piace. In più accade questa piccola cosa, c'è questo anello che lo lega ancora a qualche cosa di terreno, e questi due astronautini buffi che cantano, che cantano farfalle, ma lo cantano per un attimo, perché la pila finisce, e secondo me Barletti è stato geniale. L'ultimo, ci sia andato un tempo preciso. Ciao, sono Eugenio Arcigiano, fammi attiziano. Volevo solo chiederti una cosa. Prima, sì, anche Massimiliano parlava del lavoro di sottrazione che è stato fatto in questo disco. Ecco, volevo chiederti, la voce di Emine è molto intensa, molto bella, però a differenza anche di altri, non ci sono grandi apruti nelle sue interpretazioni. Volevo chiederti, se questa scelta è stata fatta al momento della scrittura del penso, o al momento successivo, quando è stato magari il momento di amare e amare le voci. E' tutta colpa mia. E' tutta colpa mia perché... Ma fatemi dire, è tutta colpa mia perché gli appunti non li ho scritti. Non li ho scritti perché... ma non lo so. Intanto perché evidentemente io sono abituato a scrivere per me e la parola... ho una voce che... Oio, la parola... Non esiste, praticamente nemmeno cavolare, non c'è. Quindi, a un certo punto sì, ho fatto delle cose. Ad esempio, c'è una canzone che si chiama Meraviglioso, tutto qui. Nella seconda parte lei prende una nota veramente di quelle spaziali e non è casuale, cioè mi piaceva che fosse così. Mi piaceva scrivere così per lei. Però per tutto il momento di scrittura del disco non mi sono mai posto il problema di, come dire, di mettere mina alla prova. Non lo so cosa può fare. Io credo che ci siamo posti di più. L'obiettivo è di essere espressivi. Di essere tutti e due espressivi. Cioè di raccontare. Entrambi raccontiamo. Io, infatti, ne ho parlato con lei all'inizio. Quando discutevamo, per esempio, su alcuni passaggi dei testi, ogni tanto mina mi diceva ma io non so se faccio meglio a dire questa cosa in questo modo. Io le ricordavo. Guarda che noi siamo soltanto gli interpreti. Noi siamo due attori. Non siamo quelli lì. Noi siamo quelli lì che la domenica mattina litigano, tafferogliano, poi l'autobus non passa. Non siamo loro. Noi siamo gli attori. E su questa falsa liga abbiamo lavorato. Cioè, essendo gli attori, i raccontatori di queste storie. Ci siamo posti, quindi non ci siamo posti nessun problema né di appunti, né di altre performance vocali. Grazie.